Facciamo due battute con Fernando Vicente, ex giocatore importante e ora coach di Andrei Rublyov. Fernando, benvenuto a Milano. Come ti stai trovando? Ti piace l'atmosfera? Ti piace il campo? Sì, tutto più o meno pronto. Abbiamo due giorni qua, allenando. Siamo pronti oggi per la prima partita e emozionati di questo nuovo torneo. Come sta Andrei Rublyov, che è il giocatore di cui più ti occupi? Lui è sempre carico, è così giovane, allora è sempre pronto. Lui piace molto giocare e è anche carico per questo torneo e vediamo come va. Le condizioni di gioco, il campo ti piace? Cosa ne pensi? No, mi piace, è così letto e anche Andrei mi piace. L'ultima cosa, poi ti lascio in pace. Sul regolamento, nuovo tanto discorso, cosa ne pensi? Spera, c***o, un Charlie che va a stare freddo. Carlos Costa che... Ecco, con Carlos Moya. Taladro che è un taladro, eh? No, no, grazie. Taladrini, taladrini. Eh. Allora? Mi dicevo, le... Scusate. No, ma ci mancherebbe. Le regole nuove, cosa ne pensi? Eh, a me vediamo questa settimana come va a me. Eh, ma d'entrata così non mi piace perché... Non ti piace? Non mi piace perché io so come si allenano Andrei, anche Carena a Barcellona si allenano troppo forte, mi sembra che è un pochettino corto. Ho capito. E' uno che, per quello giocatore che gioca meglio, quanto più lunga è la partita, ha più possibilità di vincere. Quando è la partita corta, vediamo. Grazie, Fernando. Grazie. Grazie.